buongiorno ciao a tutti bentrovati sul mio canale oggi andremo a fare insieme gli orecchini nike che sono il progetto del mese di giugno in collaborazione con il sito semplici bijoux dove troverete ancora dei kit disponibili per realizzare questi orecchini in questa versione in altre versioni che ha pensato rene per voi ovviamente come sempre trovate tutti i link che vi rimandano i vari kit nel box informazioni qua sotto al video e niente questi orecchini sono veramente molto molto semplici da fare l'incastonatura è super super veloce si fa veramente velocissimo a farla poi vedrete nel tutorial ho incassonato con le rocaille praticamente un cabochon da 14 mm di quelli bombati da una parte e piatti sul retro vedete e poi ho usato ogni bit super duo mezzi cristalli e rocaille nient'altro la lavorazione risulta veramente molto molto rigida e bella piatta e niente a me piacciono veramente un sacco e soprattutto perché sono belli grandi io amo gli orecchini grandi e per cui insomma mi piacciono molto spero tanto che piaceranno anche a voi ora vi lascio la lista dettagliata del materiale che ho utilizzato e poi ovviamente al tutorial allora per questo progetto ci occorrono cabochon da 14 mm questi sono la colorazione caraway sono questi poi ci serviranno ogni bit io uso due colorazioni diverse però potete utilizzare lo stesso colore come colore principale utilizzo le metallic suede dark forest e sono queste mentre come colore secondario utilizzo le opac white picasso poi ci occorreranno anche super duo io uso la colorazione perle cottil sono queste poi ci serviranno mezzi cristalli da 4 mm suede gold asce rose la colorazione che uso io e poi ci serviranno rocaille 11 0 e 8 0 della tov come 11 sto utilizzando le permanent finish galvanizzate me dal bronzo e come 8 0 invece utilizzo questa colorazione fantastica che è la milky hazelnut ovviamente poi vi servirà un perno una monachella come ago sto utilizzando un ago numero 12 e come filo utilizzo come sempre il fire line da 0 15 la prima cosa da fare quella di mettere sul lago 5 rocaille 11 0 poi ho chiuso a cerchio sono ripassata in tutte le perline ho fatto un doppio nodino mi sono portato ad uscire con il filo da una delle rocaille adesso metto sul lago una rocaille 11 0 e mi vado ad inserire nella 11 0 subito dopo che tiro il filo quindi ripeto questo inserimento per altre quattro volte ok adesso sto uscendo con il filo da una delle rocaille appena inserite questa qua metto sul lago 3 rocaille 11 0 e mi inserisco nella rocaille sporgente successiva e tiro il filo e ripeto questo inserimento per altre quattro volte e adesso sto uscendo con il filo dalla seconda delle tre rocaille appena inserite quindi quella centrale metto sul lago 5 rocaille 11 0 e mi inserisco sempre nella rocaille centrale delle tre successive questa quindi sempre quella più sporgente e ripeto questo inserimento sempre per altre quattro volte ok ora sto uscendo con il filo dalla quarta delle cinque rocaille appena inserite questa metto sul lago una 11 una 8 e un'altra 11 e mi devo inserire nelle tre rocaille centrali dell'archetto di 5 successivo queste tre e tiro il filo facciamolo un'altra volta insieme carico sul lago una 11 una 8 e una 11 e mi vado ad inserire sempre nelle tre rocaille centrali dell'archetto di cinque successive queste tre e tiro il filo quindi ripeto questo inserimento per altre tre volte bene al giro terminato sto uscendo con il filo dalla rocaille 11 0 subito dopo l'auto 0 metto sul lago 3 rocaille 8 0 e mi inserisco nella 11 0 che precede l'auto 0 nell'auto 0 1 11 0 seguente e tiro il filo e quindi ripeto questo inserimento per altre quattro volte ok ora sto uscendo con il filo dalla terza rocaille 8 0 appena inserita metto sul lago 2 rocaille 11 0 e mi inserisco nelle 3 8 0 successive queste tre qua e tiro il filo e faccio lo stesso fino a completare tutto il giro ok si è formata la coppetta adesso posso prendere il cabosciano e lo appoggio all'interno e tiro leggermente il filo con il filo sto uscendo dalla seconda rocaille 11 0 appena inserita questa qua metto sul lago 4 rocaille 11 0 e mi vado ad inserire nelle due rocaille 11 0 successive quindi salto le 8 0 e tiro il filo facciamolo un'altra volta insieme metto sempre sul lago 4 rocaille 11 0 e mi vado ad inserire nelle due 11 0 successive e tiro il filo quindi ripeto questo inserimento per altre tre volte ok adesso sto uscendo con il filo con il filo dalla quarta rocaille appena inserita metto sul lago una rocaille 11 0 e mi vado ad inserire nelle 4 rocaille successive e tiro il filo rifacciamolo insieme un'altra volta carico sul lago sempre una rocaille 11 0 e mi vado ad inserire nelle 4 rocaille successive e tiro il filo quindi ripeto questo inserimento per altre tre volte ok questo è il nostro cabochon incastonato ora sto uscendo con il filo dalla prima delle tre rocaille 8 0 inserite lateralmente questa metto sul lago due super duo salto l'otto zero successiva e mi vado ad inserire in quella dopo e tiro il filo ora metto sul lago una nibbit dalla parte più larga della perlina e mi inserisco con lago nella prima rocaille 8 0 successiva e tiro il filo ok adesso di nuovo sopra alle 8 0 andrò a inserire due super duo quindi carico sul lago due super duo salto l'otto zero dopo e mi vado ad inserire in quella successiva e tiro il filo metto sul lago una nibbit e mi vado ad inserire nella prima rocaille 8 0 successiva e tiro il filo quindi ripeto questi due inserimenti fino a completare tutto il giro bene a giro terminato sto uscendo con il filo dal foro inferiore di questa super duo metto sul lago 180 e mi vado ad inserire sempre nel foro inferiore della nibbit e tiro il filo di nuovo metto sul lago 180 e mi vado ad inserire nel foro inferiore delle due super duo successive queste due e tiro il filo rifacciamolo ancora insieme quindi sempre sul lago 180 e mi inserisco nel foro inferiore della nibbit e tiro il filo altra 80 e mi vado ad inserire nel foro inferiore delle due super duo dopo queste due qua e tiro il filo quindi ripeto questo inserimento fino a completare tutto il giro ok adesso sto uscendo con il filo dal foro superiore di questa super duo metto sul lago 180 e mi inserisco nel foro alto della super duo subito dopo e tiro il filo ok ora metto sul lago 280 e mi inserisco nel foro superiore della nibbit questo qua e tiro il filo altre due rocaille 80 e mi vado ad inserire nel foro superiore della super duo dopo e tiro il filo quindi ripeto questi inserimenti fino a completare tutto il giro adesso sto uscendo con il filo dalla 80 tra le due super duo metto sul lago una 11 0 e mi vado ad inserire nelle 280 successive e tiro il filo sopra alla nibbit andrò inserire invece 3 rocaille 11 0 qui 3 rocaille sul lago e mi inserisco nelle 280 dopo e tiro il filo ora di nuovo come ho fatto di qua metto sull'ago una rocaille 11 0 e mi inserisco nella rocaille 80 tra le due super duo e tiro il filo ok quindi ripeto questi inserimenti per tutto il giro ok adesso sto uscendo con il filo dalla rocaille 11 0 dopo l'auto 0 questa giro lavoro perché mi trovo meglio lavorare di qua quindi sto uscendo da quella rocaille metto sul lago una nibbit del secondo colore sempre dalla parte più larga della perlina e mi vado ad inserire nella prima rocaille 11 0 successiva solo nella prima e tiro il filo ok adesso metto sul lago 3 rocaille 11 salto la 11 0 dopo mi vado ad inserire in quella successiva questa qua e tiro il filo ok adesso di nuovo sopra le rocaille 80 andrò inserire una nibbit e punto nella prima rocaille 11 0 che trovo questa e tiro il filo sopra a questa rocaille 80 invece andrò inserire 3 rocaille 11 0 2 e 3 eccole qua e punto nella 11 0 subito dopo e tiro il filo quindi ripeto questi inserimenti che ho appena fatto fino a completare tutto il giro ok è il giro terminato ora sto uscendo con il filo della rocaille centrale di questo picco giro sempre il lavoro perché vado meglio di qua metto sul lago un mezzo cristallo e mi inserisco nel foro superiore della nibbit successiva e tiro il filo altro mezzo cristallo e mi inserisco nella rocaille centrale del picco successivo e tiro il filo facciamolo ancora insieme quindi mezzo cristallo sul lago e mi inserisco nel foro alto della nibbit altro mezzo cristallo e mi inserisco nella rocaille centrale del picco successivo e tiro il filo quindi ripeto questo inserimento per tutto il giro ok adesso sto uscendo con il filo dal mezzo cristallo che precede la nibbit questo metto sul lago 3 rocaille 11 e mi vado ad inserire nel mezzo cristallo successivo e tiro il filo senza mettere niente sul lago ripasso direttamente nel mezzo cristallo dopo e tiro il filo ancora sempre 3 rocaille 11 sul lago 2 e 3 e mi vado ad inserire nel mezzo cristallo successivo e in quello dopo e tiro il filo bene ripeto questo inserimento per tutto il giro ok terminato anche questo passaggio sto uscendo con il filo dalla 8 0 che precede la nibbit quella iniziale questa metto sul lago 2 rocaille 11 e mi vado ad inserire nella rocaille 11 0 dell'incastonatura e tiro il filo altre 2 rocaille 11 0 sul lago e mi vado ad inserire nella 8 0 che precede le super duo subito sopra questa qua e mi vado ad inserire con lago nella 8 0 subito sopra quella dopo la nibbit e tiro il filo adesso metto sul lago 4 rocaille 11 0 e mi vado ad inserire con lago nella 11 0 centrale del picot quella praticamente che sta tra i due mezzi cristalli questa e tiro il filo adesso di nuovo sul lago 4 rocaille 11 0 e mi vado ad inserire con lago nella 8 0 che precede la nibbit dopo questa e tiro il filo e quindi mi trovo al punto di partenza rifacciamo questo passaggio insieme quindi metto sul lago 2 rocaille 11 e mi vado ad inserire nella 11 0 dell'incastonatura e tiro il filo altre 2 rocaille 11 0 sul lago e mi inserisco nella 8 0 subito dopo la nibbit questa e tiro il filo così ora metto sul lago 4 rocaille 11 0 e mi vado ad inserire nella 11 0 tra i due mezzi cristalli sopra adesso ve la mostro questa questa qua e tiro il filo altre 4 rocaille 11 0 2 3 e 4 e mi vado ad inserire nella 8 0 che precede la nibbit subito sotto questa e tiro il filo ok quindi ripeto questi passaggi fino a completare tutto il giro ok adesso sto uscendo con il filo dalla rocaille che precede il mezzo cristallo in una delle punte della stella metto sull'ago 2 rocaille 11 un mezzo cristallo e altre 2 rocaille 11 e mi vado ad inserire con l'ago nelle 3 rocaille subito dopo il mezzo cristallo successivo e tiro il filo ok adesso senza mettere niente sull'ago scendo all'interno della nibbit nella nibbit passo nelle perline successive e mi porto ad uscire dal mezzo cristallo appena inserito ok ora metto sull'ago 6 rocaille 11 0 e mi inserisco sempre nel mezzo cristallo dal quale sto uscendo con il filo solo dall'altro lato quindi con il filo sto uscendo di qua io mi vado ad inserire di qua e tiro il filo in questo modo si forma il cappietto dove poi andrò ad inserire anellino e pernetto adesso ripasso qualche volta all'interno delle rocaille che formano il cappietto per renderlo più stabile e più sicuro poi scendo all'interno della lavorazione faccio un doppio nodino e posso tagliare il filo in eccesso perché il nostro lavoro è terminato ok ho chiuso il lavoro ho inserito i pernetti questi sono gli orecchini niche terminati cosa ne pensate io spero tanto che questo progetto vi piaccia e spero di vedere presto le vostre versioni vi ricordo che sul sito di semplici bijou potete trovare ancora qualche kit disponibile per realizzare questi orecchini in questi colori e anche nelle altre quattro versioni che ha pensato per voi René trovate come sempre tutti i link di riferimento nel box informazioni sotto al video io vi ringrazio per essere stati come anche oggi vi mando un super bacione e vi do appuntamento al prossimo video ciao